buonasera amici carissimi grazie del vostro ascolto grazie a giulio che ci aiuta grazie a chi collabora per questa trasmissione grazie a voi che legati a questo momento potete vivere attraverso le varie immagini momenti salienti di questo evento centrale dell'anno liturgico l'anno liturgico infatti ha un cuore si chiama settimana santa dentro la settimana santa gli eventi sono tanti ma è bello guardare adesso come l'inizio di un'esperienza nuova si apre con una festa la festa delle palme il 2 infatti noi viviamo qualcosa di grande sentiamo che possiamo essere felici con gesù gesù entra in gerusalemme è acclamato dai bambini è la gioia dei giovani entrano nella città i giovani e fanno festa vanno sugli alberi tagliano rami fanno festa a gesù fanno i mantelli dicono finalmente sei venuto grazie benedetto colui che viene nel nome del signore e gerusalemme era la grande meta per tutta la vita di gesù diverse volte giulio è andato a gerusalemme ha vissuto in quella città ha seminato pace perché gerusalemme vuol dire la città della pace e ha dato un impulso grande a questa città attraverso la sua presenza quel giorno fu una festa tutta particolare perché era diventato quel momento un momento saliente di tutta la sua vita ma sullo sfondo c'era un momento di lacrime perché gesù prima di entrare in questa città guarda gerusalemme dall'alto della collina vicina la guarda e piange su gerusalemme pensate questa immagine pensate la oggi pensate gesù che guarda l'ucraina che guarda gli sbarchi di cutro pensate gesù che osserva il cuore nostro quando è affranto da problemi in ospedale nelle carceri ecco guardiamo gesù che piange quando vede il suo amico lazzaro morto che non è arrivato in tempo per poterlo salvare piange piange su gerusalemme perché gerusalemme è una città bellissima ma anche una città ingrata che non riconosce se non in maniera festosa apparente ma non autentica la presenza del suo redentore ed è l'immagine del nostro presente tante volte anche noi siamo come terusalemme usiamo le processioni compesa quella del venerdì santo però come molti scrivono quanto di questa processione entra nel nostro cuore quanto cambia la nostra vita quanto ci interpella quanto siamo discepoli veri nel quotidiano di questo gesù che noi seguiamo la domanda è viviamo la processione o partecipiamo da attori esterni ad essa le domande sono grandi non voglio veramente annullare questa grande esperienza però la domanda resta la città può accogliere ma non basta la città fa festa ma non basta la città come allora gioise per la visita di gesù ma la domanda è quant'è cambiata abbiamo imparato la pace abbiamo fatto pace abbiamo realizzato momenti di straordinaria fraternità ecco questo è il mistero grande che noi vogliamo vivere cominciamo dalla festa delle palme per parte mia la festeggio a san leonardo questa chiesetta bella antica posta all'inizio del centro storico mi è sempre molto piaciuta perché sali e la incontri ti accoglie c'è una bella scalinata restaurata di recente dalla bravura e dallo zelo di don luigi entri in questa chiesa e vedi che è a misura duomo è una chiesa dove è bello stare dove c'è un coro meraviglioso dove c'è gente che ha fede ecco perché ne parlo con compassione con gioia aggiungendo tre cose la prima la funzione delle palme si svolge all'aperto poi io entrerò e accoglieremo gesù con le palme mentre lui entri in questa città recupereremo questi gesti diremo al mondo tre cose primo che lui è entrato sopra un asinello e non sopra un cavallo cioè si è fatto piccolo umile pacifico non ha usato i carri armati non ha usato l'arma atomica non ha usato le distruzioni non ha bombardato ma ha bussato e bussando a questa realtà ci è sentito profondamente umile seconda cosa mentre entra noi agiteremo i rami di palma e pregheremo per l'ucraina pregheremo perché la pace possa far sventolare gli olivi gli alberi della pace le palme della pace in tutto il mondo terzo elemento subito dopo l'ingresso c'è un bel racconto drammatico di isaia che parla del servo di avè come colui che dona la vita all'altro che soffre che affronta la tortura e la morte e infine la grande pagina di questa domenica che è il racconto della passione la passio come si dice in termini tecnici secondo Matteo il racconto della passione di Matteo ha una nobiltà magnifica è un racconto nobile alto profondo dalle radici antiche è in tessuto di una frase come era stato detto come era stato profetizzato come era stato previsto previsto perché Matteo quando scrive ha in mente una grande cosa quello che i profeti hanno previsto si è compiuto perciò il compiersi è la realizzazione delle scritture antiche come era stato promesso come era stato detto come era stato previsto così avvenuto questo indica che Gesù è il compimento è la realizzazione è la pienezza del cammino della Bibbia e in particolare la passione è la realizzazione di tante pagine dei profeti sul momento di dolore dei profeti stessi e poi di Gesù di questo servo di Yahweh che era stato profetizzato da Isaia vorrei aggiungere un solo pensiero vivete la Semana Santa con calma se potete pregate di più mettetevi un libro oggi tanti libretti come queste li trovate in libreria dove c'è il Vangelo dove c'è la pista della Settimana Santa preparatevi bene ma anche compite un gesto importante ci trovate un prete e confessatevi date alla vostra Settimana Santa una pienezza con un gesto meraviglioso chiedete perdono al Signore abbiamo sempre grandi cose da domandare perché il Signore abbia misericordia di noi nel nostro tempo del nostro mondo preparatevi alla Pasqua fraternamente fate pace se c'è qualcuno con cui abbiamo avuto problemi qualche cognato con cui non andiamo d'accordo qualche vicino di casa con cui abbiamo besticciato qualche compagno di storia di cammino di ufficio con cui facciamo fatica a lavorare questo è il momento di dire scusami facciamoci gli auguri scambiamoci la pace mettiamo nel cuore di Dio le nostre tensioni dimentichiamo i nostri affanni le nostre rabbie i nostri momenti di tensione deponiamo tutto nelle mani di Gesù tutto per la pace quel ramuscello di oliva di olivo possa essere il ramuscello della pace realmente questo è ciò che io vi auguro di vero cuore vi accompagna la Madonna la Madonna è sempre presente in tutta la settimana santa in particolare come voi sapete nella processione del venerdì santo sarà con noi ci accompagnerà recitate il rosario date a quei giorni tanta tanta esperienza di misericordia di preghiera e di pace e di pace di pace è